Buon pomeriggio e benvenuti dalla redazione web della città di Torino al nostro secondo appuntamento di oggi con Torino News edizione quotidiana. Siamo in diretta come al solito sul nostro canale Ustream, dalle 17 ci troverete anche sul nostro canale YouTube. Cominciamo con la viabilità come al solito per sapere come spostarci in città questa sera. Vi ricordo che comunque l'elenco completo delle notizie lo vedete all'indirizzo in sovrimpressione, lo potete ricevere anche gratuitamente nella vostra casella di posta elettronica. Dicevamo della viabilità, vi segnalo che dalle 18 alle 20 ci sarà promosso dalla Federazione Anarchica Torinese nei pressi della Chiesa di San Francesco da Paola un presidio di solidarietà con la popolazione di Gaza e contro lo Stato di Israele. Vi segnalo anche che era previsto in origine per domani uno sciopero del trasporto pubblico extraurbano, dei servizi GTT extraurbani. Lo vedete anche dalla notizia in primo piano sulla nostra home page e quindi domani i mezzi extraurbani GTT circoleranno regolarmente. Un'altra segnalazione relativa questa sera, questa notte, dall'1 alle 3 ci sarà la chiusura come ogni settimana del sottopasso Lanza, quello di Corso Massimo d'Azzeglio per le operazioni di pulizia meccanizzata e poi l'ultima segnalazione riguarda il semaforo in manutenzione in Largo Borgaro, quindi prudenza nella zona. Andiamo a vedere la situazione del tempo invece in città, un tempo che sta evolvendo di ora in ora, come vedete dalla rilevazione della nostra home page a cura dell'Arpa Piemonte, una rilevazione di un'oretta fa circa, abbiamo un cielo nuvoloso, una temperatura intorno ai 2 gradi e mezzo, l'umidità al 64%, la rilevazione di questo momento della nostra stazione meteo in via Meucci ci dice che la temperatura è un po' salita, siamo intorno ai 5 gradi scarsi, l'umidità è scesa però al 50%. Le previsioni per quanto riguarda la notte, il mattino di domani ci danno cielo nuvoloso, le temperature non dovrebbero abbassarsi più di tanto, anche nella notte non dovremmo scendere di molto al di sotto dello zero. Per quanto riguarda le notizie, vi anticipiamo un paio di notizie per gli appuntamenti di questa sera, tratte dal portale Torino Cultura, torinocultura.it. Tra pochi minuti, tra un'oretta circa, la Biblioteca Nazionale prenderà il via, sarà inaugurata la mostra dedicata ai disastri della guerra di Francisco Goia, una mostra ad ingresso gratuito che inaugura, come detto tra poco, durerà fino al 28 di febbraio, abbiamo la possibilità di trovare una scheda su questo, su Torino Cultura, quindi vi rimando al sito per eventuali informazioni. In più, vi ricordo soltanto che la mostra è aperta il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 18 ed è chiusa la domenica. Un'altra segnalazione sempre per questa sera per gli amanti della musica, siamo all'undicesimo concerto della stagione sinfonica torinese all'auditorium Rai Arturo Toscanini, questa sera avremo in programma delle musiche di Milo, Bernstein e Stravinsky. Si comincia alle 20.30, la replica domani alle 21, i biglietti vanno da 20 a 30 euro, i giovani vi ricordo che entrano a soli 9 euro. Andiamo a vedere notizie dal web della città, la notizia di fare famiglia oggi, il ciclo di incontri di informazione, sensibilizzazione sulle trasformazioni dei modi di fare famiglia, vi ricordo che c'è tempo fino a domani per prenotarsi gratuitamente per poter assistere agli incontri, dalla notizia troverete il modo per poterlo fare. Chiudiamo con le nostre webcam e andiamo a vedere allora piazza palazzo di città, questa in questo momento la situazione nella piazza, vedete una piazza decisamente deserta. Ci spostiamo di poco perché qui siamo davanti al duomo di San Giovanni, vedete ancora un po' di neve sui tetti, la visibilità non è proprio la luce o meglio non è proprio delle migliori. Eccoci poi in piazza Pitagora all'incrocio concorso Siracusa, non abbiamo traffico in direzione nord, qualcosa in più invece in direzione Lingotto, ma niente di particolare e chiudiamo con la rotonda autostrade verso la Torino-Milano dove invece il traffico è presente anche se decisamente scorrevole. Bene, allora rientriamo in onda per darci l'appuntamento domani mattina alle 9.15, domani venerdì vi ricordo uscirà anche il nostro gemello, il settimanale culturale curato da Matteo De Simone e Mario Parena, anche questa volta il protagonista sarà il MAO, il nuovo Museo di Arte Orientale. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domani.